Ben ritrovati cari amici, oggi facciamo visita al gruppo Progetto, siamo a Torino in corso Unione Sovietica, a due passi da centro città e incontriamo Sergio Lai ad accoglierci. Ciao Sergio. Ciao Stefania, ben ritrovato a tutti. Grazie a te per essere qui con i nostri telespettatori da casa, si riapre la stagione anche per il mondo dei motori, anche e soprattutto, perché come di consueto ci aspettiamo grandi opportunità, soprattutto per quello che riguarda le condizioni economiche da parte delle case automobilistiche. FCA è sempre in prima linea per offrire il meglio e devo dire che settembre promette bene, perché si parla di senza interessi, tasso zero quasi su tutta la gamma, ci vuoi spiegare un po' nel dettaglio? Assolutamente Stefano, questo mese abbiamo la possibilità su tutta la gamma, Fiat, Alfa, Lancia, tasso zero fino a sei anni, quindi fino a 72 mesi senza interessi. Bene, questo è davvero un po' la novità, il tasso zero, la possibilità di accedere a finanziamenti senza costi ulteriori, semplicemente la possibilità di dilazionare, poi vi consiglio di venire a presentare la vostra esigenza d'acquisto, quindi equivale la vostra permuta, il vostro caso, le vostre necessità, Sergio Lai e tutto lo staff a vostra disposizione. Gruppo progetto, però andiamo a vedere nel dettaglio, ad esempio partiamo dalla Fiat Panda che rimane un cult, un evergreen. Il nostro carter, la City Car per eccellenza, Panda a partire questo mese da 129 euro al mese, addirittura sempre zero anticipo e zero interessi. Radio e clima, l'offerta valida per tutto il mese di settembre, sulle vetture in prontà consenne, abbiamo abbastanza di tutti i colori, tutti i tipi. Bene, quindi affrettatevi in questo caso, ovviamente non manca mai la possibilità di aggiudicarsi Fiat Panda, ma in questo momento potete scegliere il colore di carrozzeria, a livello di allestimento, quello che vi interessa. Proseguiamo con la Fiat 500, anche e soprattutto in questo caso su una delle vetture più fashion, più di moda, si può accedere ad un tasso zero. Assolutamente sì, la gamma 500 è soltanto con 10 euro in più di una Panda, quindi 139 euro al mese, potete portarvi a casa la Fiat 500, zero anticipo, zero interessi. Bene, accanto a te vediamo la Fiat Tipo, qui possiamo parlare però di offerte su tutta la gamma, cioè Berlina, Station Wagon. Assolutamente sì, Berlina, 5 porte, Station Wagon, tipo addirittura a partire da 179 euro al mese, sulle vetture sempre in pronta consegna, zero anticipo, zero interessi. Bene, ed ora ci occupiamo invece delle versioni speciali, mi piace definirle così, di Fiat 500, quindi la L e 500X, che sono qui a disposizione, tra l'altro le potete vedere, toccare comando nei saloni progetto. Assolutamente, 500L, tutta la gamma a partire da 179 euro al mese, vetture in pronta consegna, ne abbiamo abbastanza anche qui, vari colori, vari allestimenti. E 500X invece a partire da 189 euro al mese, anche su vetture sempre in pronta consegna, zero anticipo, zero interessi. È stato molto chiaro, ti ringrazio perché è importante la possibilità non soltanto di acquistare senza costi aggiuntivi, zero interessi, ma anche la possibilità di non anticipare nulla. Comunque c'è la possibilità di personalizzare. Adesso però ti chiedo di andare a visitare insieme il salone dedicato alle vetture d'occasione, alle chilometri zero aziendali. C'è sempre molto interesse, mi chiedono anche personalmente le persone qualche opportunità d'acquisto, ci avviciniamo alla fine anno e poi ci ritroviamo per fare il punto. State con noi. Bene, allora proprio perché c'è grande interesse ci occupiamo delle mitiche chilometri zero, ormai diventate anche in questo caso un cult. Questa tra l'altro è uno dei modelli di maggiore successo, c'è molta richiesta, la 500L. Di quale versione parliamo e che cosa ci propone? Assolutamente, è un risparmio rispetto al nuovo molto interessante. Questa per esempio che vediamo è una 500L 1.3 Multijet, chilometri zero, prezzo interessantissimo, 14,9 più voltura. Bene, proseguiamo la nostra visita nei saloni in vetrina. Gruppo Progetto non può mancare una Fiat Panda, diciamo in alternativa alla vettura nuova ci sono le auto aziendali. E così Sergio? Assolutamente, in alternativa appunto a una vettura nuova abbiamo un risparmio molto molto interessante, vetture quindi di un anno con pochissimi chilometri, a partire da 7.900 euro. Ok, passiamo su tutt'altro segmento, la casa di Arese, anche qui c'è sempre molto interesse, si tratta di autovetture sportive e non se ne trovano moltissime. Questa è un Alfa Romeo Giulietta? Assolutamente sì, abbiamo delle Giulietta 1.6 Multijet 120 CV nell'allestimento distinti, quindi molto accessoriate al clima automatico, full optional. Vetture a partire da 15.800 euro di un anno di vita. Oh, e qui è una vettura davvero, vabbè, inutile dire, una delle mie preferite, piace al gentil sesso, ma piace comunque in maniera davvero trasversale. E la nuova Lancia Y, e la vediamo, aziendale, chilometri zero, comunque si risparmia dal prezzo di listina. Assolutamente, un gran risparmio dal prezzo di listina, abbiamo delle versioni, per esempio questa che vediamo, una 1.200, l'allestimento gold, quindi molto accessoriata, accessori di parcheggio, bluetooth, eccetera. Abbiamo vari colori, vari allestimenti, anche del vettore elefantino. Bene, abbiamo parlato di Fiat 500 L, ne vediamo un'altra, un altro colore di carrozzeria, dimostrazione del fatto che c'è davvero la possibilità di scegliere e oltre a risparmiare dall'istina. Assolutamente, qui un grandissimo risparmio, questa per esempio che vediamo è una 500 L 1.300 Multijet, aziendale di un anno di vita a 13.900 euro. Bene, prima di salutare vi mostriamo il corner dedicato allo Scorpione, al marchio Abarth, 595, 124 Spider. C'è la possibilità, presso il gruppo progetto, di toccare con mano, di respirare questa atmosfera. Ovviamente è inutile dirvi il mito, la leggenda, ma anche la possibilità davvero di vedere, di provarle, oltre che acquistarle. Ma ti voglio mettere alla prova, abbiamo detto rientro dalle vacanze, la parola d'ordine è condizioni di acquisto, abbiamo visto chilometri zero aziendali, come acquistarle? Assolutamente, finanziamento personalizzati, con possibilità di inserire anche la circolazione furto, incendio, collisione e casco. Diamo indirizzo e orari d'apertura, praticamente siete aperti sempre, 7 giorni su 7. Siamo aperti 7 giorni su 7, vi aspettiamo numerosi, l'indirizzo è il Corso Unione Sovietica 141. Sergio Lai ad accogliere oltre a tutto lo staff gruppo progetto, buon lavoro, alla prossima. Grazie Stefano e un saluto a tutti. Cari amici, noi ci rivediamo, alla prossima in TV.